Direttamente dalla storica sala dei monopoli di Stato di Piazza Mastai in Roma, questa è l'estrazione di Si Vince Tutto Super Enalotto. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione di Si Vince Tutto, il concorso speciale di Super Enalotto. Come sempre Si Vince Tutto Super Enalotto ha un suo monte premi distinto da quello di Super Enalotto che viene interamente distribuito in un'unica serata, quella di estrazione, fra tutti i vincitori. Per partecipare si scelgono 12 numeri e se ne devono indovinare 6, ma si vince indovinando anche solo due numeri della combinazione estratta. Ad oggi Si Vince Tutto ha già distribuito oltre 87.500.000 euro e solo nell'ultimo concorso sono stati assegnati oltre 170.000 euro. Scopriamo insieme quale cifra ha raggiunto il Monte Prani oggi mercoledì 23 febbraio. 181.854 euro. Le operazioni di estrazione sono già iniziate. Le 90 sfere numerate per la sestina vincente sono state caricate e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo la via all'estrazione di Si Vince Tutto Super Enalotto. Le sfere sono scese nell'urna elettronica e inizia il loro mescolamento automatico. Allora andiamo subito a scoprire il primo numero della sestina di Si Vince Tutto Super Enalotto di oggi. ed il primo numero estratto è il numero 61. Il secondo numero sta arrivando, di qui in poi si comincia a vincere. E il secondo numero estratto è il numero 7. E ora siamo al terzo numero. Eccolo! Il terzo numero estratto è il numero 56. Via con il quarto. Il quarto numero estratto è il numero 28. E' giunto il momento del quinto numero, il penultimo. Ed il quinto numero estratto è il numero 37. Con l'ultimo numero, la sestina vincente di questa estrazione speciale sarà completa. Ed il sesto numero estratto è il numero 34. Controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione. 61, 7, 56, 28, 37, 34. Controllate bene la vostra ricevuta di gioco perché Si Vince Tutto Super Enalotto questa sera distribuisce l'intero Monte Premi che vale ben 181.854 euro. E allora ricontrolliamo tutti i numeri estratto di Si Vince Tutto Super Enalotto con la sestina vincente in ordine crescente. 7, 28, 34, 37, 56, 61. L'estrazione di Si Vince Tutto Super Enalotto di oggi, mercoledì 23 febbraio, è terminata. Fra pochi minuti scopriremo insieme come verrà distribuito l'intero Monte Premi. A fra poco con Si Vince Tutto Super Enalotto. Ben ritrovati. Poco fa abbiamo seguito l'estrazione dei numeri vincenti di Si Vince Tutto Super Enalotto di oggi, mercoledì 23 febbraio, che vi ricordo ha messo in paglia oltre 181.000 euro. Il computer ci comunica che sono state assegnate 9.966 vincite per un valore di 181.773 euro. Il 6 non è stato centrato, ma sono stati premiati migliaia di vincitori. Nessun 6. Il 5 vince 6.183 euro. I 4 sono 125 e vincono 119 euro ciascuno. I 3 sono 1.427 e vincono 46 euro ciascuno. E i 2 sono 8.413 e vincono 11 euro ciascuno. Vi ringrazio per essere stati con noi. Si Vince Tutto Super Enalotto vi dà appuntamento a mercoledì 2 marzo. Arrivederci. 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 Arrivederci.